dei tempi do la parola a Linda Linda Santilli collegata da sì io mi scuso ma devo oscurare il video perché altrimenti mi salta la connessione ce l'ho troppo fragile perdonatemi devo parlare in questo modo vi ringrazio grazie Roberto grazie a due Roberti che sono seduti in presidenza vi ringrazio per questa opportunità di confronto che ci offrite in un momento in cui di confronto abbiamo davvero bisogno un momento drammatico è stato ricordato da chi mi ha preceduto ampiamente mai avremmo immaginato di vivere mi sentite scusate posso continuare sì sì scusa c'è una interferenza di qualcuno ha lasciato il microfono aperto vi chiedo chi è collegato di fare attenzione a non soprapporvi grazie dunque dicevo noi siamo sull'orlo di un precipizio e il segno di questo momento storico è quello della distruttività cioè una pandemia alle spalle lo spettro di una guerra nucleare mondiale all'orizzonte ora sono due eventi estremi se così li vogliamo definire che vedo collegati tra loro nel senso che se leggiamo il nostro tempo da questi due angoli di visuale noi vediamo il fallimento del modello di sviluppo capitalistico cioè vediamo i mostri che è stato capace ed è capace di produrre ma vediamo anche un'altra cosa e cioè l'assenza di un modello alternativo di società l'assenza di una sinistra chiamiamola come vogliamo che sia in grado di prefigurare il nostro orizzonte cioè che sia in grado di immaginazione per dare le parole alle cose ora tutti i tentativi compiuti in questi anni e sono ormai molti anni di resistenza o di restyling della sinistra sono falliti in una coazione a ripetere che ci ha portato o almeno che non ha impedito che arrivassimo al punto in cui siamo senza più le parole che servirebbero per rappresentare la realtà e la sofferenza che le attraversa e il punto è che nel momento in cui più ci sarebbe bisogno di questo la sinistra non c'è non c'è e questo vuoto in italia lo avvertiamo da molto tempo più che altrove e più che mai oggi in questi tempi di guerra così virulenti siamo ancora dentro le macere di una sconfitta epocale in quel pezzo di mondo che è il nostro che noi abitiamo che è un occidente in declino perché la sua pretesa di dominio sul mondo vacilla e la risposta al suo declino sono le armi e la guerra ora di fronte a questo contesto quello che prevale il senso di smarrimento di solitudine di paura le forze politiche organizzate non attraggono più nessuno né sono più luoghi di elaborazione ripensamento di sé del mondo al di là della buona volontà di ciascuno non sono più luoghi di confronto chi sente il bisogno di reagire preferisce attivarsi nel mondo dell'associazionismo lo vediamo di sicuro i giovani le donne è nell'associazionismo che sono attivi e attive il mondo del pacifismo del femminismo è lì che è attivo le donne non ci sono i giovani non ci sono non è vero i giovani e le donne ci sono ma scelgono di attraversare altri luoghi le associazioni le riviste i collettivi auto organizzati a livello territoriale per la difesa dei beni comuni dell'ambiente della democrazia come ci ricordava giovanni prima dei diritti della pace oggi svolgono un ruolo importantissimo per tenere aperta la discussione cioè non far morire la speranza del cambiamento che è che poi significa necessariamente anche la speranza della ricostruzione di una sinistra che che non sia appunto di restyling ma che sia in grado di immaginare questo cambiamento transform è una di queste realtà è una realtà importante di questo panorama ancora più perché dentro una rete europea fitta e quindi ha uno sguardo ampio assolutamente necessario io faccio parte di disarma il coraggio della pace a parte il fatto che è un percorso comune a tante e tanti di voi oggi presenti di militanza politica ma appunto dico faccio parte di questa associazione che è nata proprio per contribuire a coltivare questa speranza di cambiamento che ci veniva ricordata anche da Fausto Bertinotti individuando noi la pace come fulcro decisivo di analisi e di iniziativa da cui partire oggi per compiere questa fatica questo lavoro politico come giustamente è stato definito che vede insieme impegnati mondo laico e mondo cattolico ho detto che vede non che che veda è l'auspicio ma che già vede come per esempio nel caso della nostra associazione impegnati insieme mondo laico e mondo cattolico la pace al centro da questo punto di vista tanti e tanti di noi hanno sentito come un dovere lo voglio dire fuori dei denti di sostenere il progetto della lista pace da terra dignità mi sento libera di poterlo fare per le elezioni europee e siamo sono impegnati impegnati in questo momento nella raccolta delle firme concludo dicendo che dovremmo fare lo sforzo e lo dico a al mio amico roberto ai roberti a tutti coloro che sono lì perché sono certa che condividono questa cosa dovremmo fare lo sforzo di costruire occasioni maggiori occasioni e luoghi in cui tutte queste realtà diffuse scollegate tra loro possano incontrarsi incontrarsi fuori da ogni ritualità intendo cioè contaminarsi produrre pensiero iniziativa comune facciamo questo sforzo perché ne vale la pena secondo me ciò che propongo per esempio è di creare le condizioni per avere uno degli incontri periodici di questo avevamo già parlato con roberto morea illo tempore poi è difficile ma insomma resta nelle intenzioni ma pensare a quindi pensare a come fare ma immaginare anche un appuntamento di più giorni in presenza non so un festival perché no diamoci questo obiettivo proviamo a costruire un appuntamento di le vecchie feste che si facevano che qualcuno ancora resiste ma costruiamola il mondo dell'associazionismo e delle riviste si incontra con un programma di riflessione proponendo anche qualche uscita pubblica qualche iniziativa importante a partire dal tema della pace costruiamola questa cosa ecco vi vi saluto consegnandovi questa proposta e vi ringrazio ancora di cuore grazie Linda e proveremo perché anche a me come come hai detto ci abbiamo pensato diverso tempo fa rimane una bella suggestione quella di poter realizzare una un incontro con tutti quei soggetti che come noi lavorano nel campo della ricerca dell'analisi e provare a avere momenti di incontro sicuramente utile oltre che necessario io ecco